Che cosa succede se per un infortunio o una malattia non posso più lavorare? Quali sarebbero le conseguenze finanziarie? Perderei tutto quello che ho? E quali sarebbero le conseguenze per la mia famiglia? In caso di infortunio o malattia, alla sua famiglia resta soltanto una parte del suo salario. Il suo consulente AXA le illustra in modo semplice e chiaro come può tutelare la sua famiglia. AXA Winterthur. Ridefiniamo la protezione finanziaria.